Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Allora, noi la tua storia la conosciamo, però in realtà la prima domanda può sembrare un pochettino più strana, o forse un po' più, secondo me non difficile, ma in questo punto ti direi, se ti dovessi raccontare, descrivere, cosa descrivi di Anna Luppi? Questa è davvero una domanda difficile, nel senso che, allora, il mio percorso inizia ormai diversi anni fa, non dico quanti perché altrimenti mi sento vecchia, un po' di anni fa ormai, con l'idea di portare all'estero le canzoni italiane delle cantautrici meno conosciute, o perlomeno meno conosciute all'estero, perché all'estero ovviamente erano arrivate, soprattutto in quegli anni, penso, adesso magari con Spotify, lo streaming, è più facile superare i confini italiani. Al tempo, curiosando un po' quello che conoscevano all'estero, si erano fermati più o meno agli anni 80, cioè le ultime cose che erano arrivate. Allora, insomma, ti parlo un po' prima del 2010, quindi insomma andiamo indietro di un po', pensammo di portare questo spettacolo che si chiamava Dolcemente Complicate, dove appunto portavamo le cantautrici o anche solo le interpreti, perché poi cantanti, donne della canzone italiana insomma erano diverse, Gianna Nannini, la più recente, quindi non solo quella degli anni 80 che era arrivata fino a loro, piuttosto che Carmen Consoli, Fiorella Mannoia, Elisa, un po' queste, insomma, poi ovviamente ne sono arrivate anche altre per fortuna, ma in quegli anni scegliamo alcune di loro e le portammo in Germania, in Olanda e negli Stati Uniti con dei tour che assomigliano a quelli che faccio un po' adesso, nel senso che cercavamo date in cui poter promuovere la musica, soprattutto quindi questi concerti dedicati alla canzone d'autore italiana al femminile, e così, col solo scopo di farla conoscere. Negli stessi anni, più o meno, col mio gruppo di allora, che erano gli idramante, iniziamo a scrivere canzoni, quindi solitamente io portavo i testi e gli strumentisti portavano la parte musicale, strumentisti che allora erano Massimo Minotti, con cui tuttora suono e che è diventato il mio produttore, chitarrista, insomma si occupa di un sacco di cose, booking agent, insomma un sacco di cose fa Massimo, e lo ringrazio di questo. e allora c'era anche Andrea Presciuttini, alle tastiere, e appunto anche lui coautore di molti dei brani. Questo è un po' il prima. E poi, niente, da lì il fatto di scrivere canzoni è diventato sempre più una necessità, quindi abbiamo abbandonato piano piano la parte di cover e appunto quello spettacolo di Dolcemente Complicate che ci ha fatto così partire, ed è diventato sempre più un progetto cantautorale di musica propria, quindi sia con il gruppo idramante che poi quando ci siamo sciolti ho continuato come solista, e poi insomma fino ad arrivare ad oggi, che come dire è un susseguirsi di, oserei dire tentativi, anche se non so se sia un buon termine, tentativi di andare avanti con quello che sono, con quello che ho da dire, senza grandi obiettivi, cioè senza sapere esattamente dove voglio arrivare. Sicuramente quello che voglio fare sempre è poter portare la mia musica a quante più persone possibili, quindi ovviamente poi per quanto riesco insomma è quello che cerco di fare. A questo punto parliamo un attimo tanto del nuovo brano che sta per uscire, come nasce questo brano, da cosa tra ispirazioni? Allora guarda l'ultimo, l'ultimo brano che è uscito, che è uscito ieri, quindi proprio freschissimo, è metà in italiano metà in inglese, che poi è un brano nato in inglese, scusa, nato in italiano in realtà. Poi siccome è nato dalla voglia di condividere musica con questo cantautore che fa parte del gruppo dei Magic Mumble Jumble, lui è tedesco-inglese, cioè parla o tedesco o inglese, quindi abbiamo deciso di scrivere anche una parte in inglese in modo che, come dire, risultasse anche più credibile. Insomma, ognuno canta nella propria lingua e secondo me è più credibile. Insomma, anch'io in inglese non so se sono riuscita tanto a renderla, però insomma, sì, quello che volevamo dire abbiamo cercato di metterlo in entrambe le lingue ed è appunto uscito ieri, All We Got, quando avremo, featuring the Magic Mumble Jumble, che ringrazio di aver voluto partecipare, aver voluto condividere questo pezzo di strada insieme, questo pezzo di musica. E la copertina, abbiamo visto che ci siete, voi due, come nasce questa copertina? Così semplice, ma comunque elegante? Sì, guarda, allora, per questo devo ringraziare Graziano Menegatto, che ha fondamentalmente fatto il videoclip, girato il videoclip. Tra l'altro ha fatto un lavoro fantastico, perché ci siamo, di fatto, con Paul Instance, il cantante, ci siamo trovati quasi per caso, nel senso che lui vive tra la Germania, l'Olanda, ogni tanto passa un po' di tempo in Italia, e un giorno parlando abbiamo detto, beh, insomma, quando riesci a passare da Mantua, io sono di Mantua, vieni, vedrai che qualcosa riusciamo a fare insieme, e quasi per scherzo, siamo riusciti nello stesso giorno in cui dovevamo solo parlare, decidere come fare, quando trovarci, come organizzare il tutto, di fatto abbiamo fatto quello che dovevamo fare in tre ore circa, quindi un po' per scherzo facciamo le foto, un po' per scherzo giriamo qualche immagine, insomma, alla fine, grazie al lavoro poi del videomaker e la copertina che vedi anche ad opera di Robby Manini, che appunto si è occupato della grafica, siamo riusciti ad arrivare poi a un prodotto che ci convinceste, nonostante appunto così il tempo non fosse molto, perché appunto Paul è molto impegnato, soprattutto in questo periodo con il suo tour, quindi insomma siamo riusciti insomma in qualche modo ad arrivare a finalizzare anche questa bella avventura, perché si è creato anche un clima molto di collaborazione, di sintonia, quindi insomma siamo riusciti secondo me a creare una bella, a perlomeno a trasmettere una bella energia, ecco, che era quello che ci piaceva di più, ci tenevamo di più. Nella tua bio c'è scritto cantante e flautista, sei anche flautista? Sì, allora ovviamente i veri flautisti che mi sentono diranno no, questa non è una flautista, forse neanche una vera cantante, quindi in realtà, ma allora diciamo che ho studiato flauto, il flauto mi accompagna da tantissimo tempo della mia vita ed è uno strumento che mi ha praticamente scelta, nel senso che io non avevo assolutamente mai pensato nella mia vita di suonarlo, poi per casi della vita ci siamo incontrati ed è stato amore a prima vista, quindi sì, lo suono, anche se insomma a modo mio diciamo, non proprio in modo ortodosso, però sì, non riesco a farne a meno ed è uno degli strumenti che mi accompagna di più. Quello sì. Sei salita sul palco con tanti artisti, abbiamo visto da Max Cazze, una lista lunghissima. Prima cosa, qual è l'emozione di salire sul palco quando ti si apre la quarta platea e poi senti quel pubblico davanti che inizialmente è silenzioso, ma poi si emoziona, sta in silenzio emozionata, piange, ride, forse canta. Che cosa provi? Che cosa senti? Allora, di solito, prima di salire sul palco, la sensazione è quella di quasi disvenire, nel senso dico no, adesso non ce la faccio, anche questa, ce la farò anche questa volta e di solito insomma, poi ovviamente mi butto sul palco e dico sì, dai, ce la farò, in qualche modo ce la farò, quindi è sempre una grande emozione. Ti dirò che ultimamente col fatto che siamo stati tanto tempo a non poter suonare, a non poterci esibire dal vivo, prevale l'emozione di finalmente vedere le persone davanti, quindi poter condividere il concerto con delle persone reali e il fatto di essere tutti nello stesso momento che ascoltiamo la musica si crea una sorta di magia, quindi è quasi quella sicuramente è la sensazione più forte e cerco di goddermela il più possibile perché davvero mi è mancata tanto, mi è mancata tanto in questo periodo in cui non abbiamo potuto ecco, esibirci, quindi sì, una grande emozione di esserci finalmente vicini, insomma. E cosa hai saputo scogliere da tante collaborazioni con tanti artisti che ti ha permesso anche poi di crescere artisticamente? Allora, sicuramente mi hanno insegnato tanto, tutti e tutte, le persone con cui ho condiviso qualcosa può essere stata la scrittura di un brano piuttosto che l'esibizione insieme, piuttosto che la traduzione di un brano. Io ho collaborato anche con Carmen Paris che è una cantautrice molto conosciuta in Spagna e che mi ha chiesto di collaborare insieme su un suo brano, quindi un brano in spagnolo originariamente, e di adattare il testo dallo spagnolo all'italiano. Anche quella è stata un'esperienza molto arricchente e in generale posso dire da qualsiasi persona a qualsiasi livello, perché poi ho collaborato con tante persone diverse, ho sempre imparato qualcosa, mi sono sempre messa in ascolto cercando di capire che cosa potevo migliorare di me, guardando ovviamente l'esempio di altre persone che a qualsiasi livello sono comunque persone che ti possono insegnare e quindi sono molto grata per tutte queste opportunità. Abbiamo notato, leggendo un pochettino la tua storia, che come un'altra artista nel doppiaggio che aveva, Patrizia Motto, l'aveva portato, ha deciso di portare sul palco, cioè nello studio, il bambino suo piccolo per poter proseguire. Abbiamo notato che anche tu hai deciso di portare sul palco il tuo figlio a piccola genera età. Sì, nello specifico tutti e due, perché ho due bambini, una bambina e un bimbo che è un po' più piccolo. Ho cominciato con la prima che aveva circa due mesi quando è salita sul palco con me perché il concerto che avevo in quel momento era stato programmato ovviamente tempo prima e io non sapevo assolutamente nulla di come sarebbe stata la mia vita da mamma e quindi avevo assolutamente accettato e quando dovevo esibirmi la mia bimba era davvero molto piccola, non potevo lasciarla con nessun altro insomma e anche mi faceva piacere portarla con me e ho avuto anche lì la fortuna di scoprire che portandola in fascia quindi portandola con me proprio addosso a me legata a me lei stava benissimo quindi praticamente dormiva tutto il tempo non aveva bisogno di altro per cui io poi ho fatto diversi concerti portandola con me perché a quel punto ovviamente erano concerti in acustico quindi dove lei non aveva insomma il livello sonoro non era tale da poterla disturbare o danneggiare in qualche modo e abbiamo addirittura fatto un tour in Francia e Olanda se non ricordo male anche lì una settimana dieci giorni non ricordo bene insomma comunque con lei quando era già un po' più grande aveva un anno e mezzo e anche lì stava tranquillamente in fascia stava con me insomma è stato è stata un'esperienza molto particolare e molto molto bella che poi ho ripetuto col bimbo più piccolo per solo per un po' di tempo perché a quel punto c'era anche la grande che quindi era un po' più difficile gestire entrambi e quindi poi sono tornata tra virgolette a fare quello che fanno tutte le persone che lavorano cioè trovare un posto dove lasciare i figli e lavorare come come qualsiasi professionista di qualsiasi lavoro insomma come Samantha Cristoforetti tanto per dirne una ad alti livelli insomma hai fatto diversi dischi abbiamo visto una discografia abbastanza già importante qual è la sensazione di dover girare tutta l'Europa dove avere successo in Europa e poi com'è la situazione in Italia a livello musicale girando l'Europa cosa ti rendi conto come noti la differenza dell'immagine che viene fatta ma soprattutto della visione musicale degli artisti tra l'Italia e le varie parti d'Europa allora sono sempre un po' in imbarazzo a dire questa cosa ma ci provo allora innanzitutto premetto che quello che dico riguarda me nello specifico nel senso che non so se è la situazione in Italia così anzi oserei dire che vedo tante colleghe colleghi musicisti trovare una loro dimensione anche qui quindi sicuramente come dire è quello che dico adesso è il mio commento su quella che è la mia esperienza che non vuole essere assolutamente generale a me è capitato forse per il tipo di musica che faccio o per semplicemente quello che io propongo mi capita all'estero di ricevere più attenzione e di ricevere quasi una sorta di sento percepisco perlomeno una maggiore stima del lavoro di musicista rispetto a quello che mi succede in Italia però ripeto è quello che succede a me perché magari a tante altre artiste artisti non hanno questa percezione sicuramente a me piace viaggiare mi piace confrontarmi con altri pubblici diversi anche da quello italiano poi mi va benissimo anche ovviamente stare qua in Italia e proporre la mia musica qua in Italia ci mancherebbe altro mi piace tantissimo anche il mio paese quindi però sì mi è capitato anche lì forse per questioni così della vita che non sempre possiamo decidere a volte semplicemente succede all'estero mi capita questo insomma c'è una buona attenzione un'ottima accoglienza e proprio la percezione di un rispetto nei confronti del lavoro di musicista questo così ripeto poi vale per me non deve essere generale per tutti quindi così quindi siccome sto bene mi piace perché no qual è stato il concerto il momento più emozionante in questo periodo cioè in questi anni che hai girato tanti concerti hai fatto che ti ha lasciato quella sensazione in più che effettivamente diresti forse mi piacerebbe rientrare su quel palco in quel momento perché ho vissuto un'emozione così grande che mi ha dato quella felicità che tutti cercano forse allora ce ne sono tanti perché devo dire che sono mi ritengo fortunata e quindi tanti tanti situazioni artistiche in questi anni mi hanno dato soddisfazione se devo sceglierne una in particolare è stato sul palco del premio Bruno Lauti anno 2014 poteva essere dove non ho vinto ho partecipato con una canzone sulla violenza contro le donne che è stata molto apprezzata da Roberto Vecchioni che quindi a fine esibizione a fine concerto dopo le premiazioni tutto quanto è venuto personalmente da me a farmi complimenti ecco devo dire che lì proprio è stata un'emozione grandissima che mi ha dato mi ha dato quasi più soddisfazione che qualsiasi premio qualsiasi no magari più soddisfazione no però insomma è stato è stato un momento davvero intenso ecco questo sicuramente e se ti dico Targatenko se mi dici Targatenko io ti dico che è stato un lavoro abbiamo vinto un premio come album collettivo a progetto quindi è stato un lavoro che io devo tutto proprio totalmente alle persone che lo hanno gestito e quindi a tutti gli artisti che componevano quell'album e a Voci per la Libertà che è questo festival per i diritti umani organizzato da Amnesty International che si tiene tutti gli anni Voci per la Libertà ha davvero sempre fatto non solo quell'anno ma in generale sempre fatto un grande lavoro di collaborazione cooperazione riconoscimento del valore degli artisti e delle artiste sostanzialmente sostegno anche proprio al nostro lavoro e veramente perseverano in questa grande missione e quindi il premio è tutto loro per quello che fanno e allora a questo punto ti aggiungo è già primavera è già primavera anche perché effettivamente siamo a maggio quindi è già primavera e anche qui devo ringraziare delle altre persone perché io difficilmente lavoro da sola totalmente da sola e qui devo ringraziare la voce di Veronica Marchi che ha voluto collaborare con me che sicuramente ha aggiunto valore alla canzone che già era secondo me una bellissima canzone canzone della quale ringrazio Antonio Galutti e Enrico Alberini che hanno scritto buona parte del testo della musica e poi mi hanno appunto dato la possibilità di interpretare questa canzone che fondamentalmente parla di speranza parla di di quanto le cose possono essere negative ma poi volgere il positivo soprattutto se ne sappiamo cogliere l'opportunità e quindi insomma un grande messaggio di speranza che di cui abbiamo bisogno sempre sia quando è uscita che a questo punto appunto ne avevamo bisogno perché era il 2020 sia comunque adesso e in tutti i momenti della vita perché insomma ci sono sempre purtroppo brutte notizie che ci accompagnano che vorremmo nel 2022 non sentire più parlare di di guerra per esempio eppure c'è qualcuno nel mondo che si ostina a perseverare in queste queste cose orribili e insomma quindi abbiamo bisogno di speranza per cui spero nel mio piccolo con quella canzone di averla potuta portare nella composizione dei tuoi brani nascono prima le parole nasce prima la musica o nascono insieme tutte le combinazioni che hai detto a volte solo il test prima il testo a volte prima la musica e a volte di getto nascono tutte insieme e poi ovviamente tutto il lavoro che c'è dopo in ogni caso tutto il lavoro successivo le crea però sì un po' tutte le combinazioni e invece le canzoni sono a questo punto faccio un po' di filosofia sono rappresentazioni ipotetiche di una vita ideale oppure sono immagini frame di una vita reale che quel momento si rappresenta come immaginerai dalle mie risposte entrambe le cose nel senso che a volte mi piace raccontare storie di persone anche a volte fatti e persone realmente esistiti a cui ovviamente traggo ispirazione e cerco rispettando la loro privacy rispettando la loro vita di semplicemente trarre ispirazione quindi raccontare una storia che non è proprio la loro storia che però vuole in qualche modo descriverla e portare dei messaggi perché tendenzialmente sì quello che mi piace poi magari non in tutte le canzoni ci riesco ma quello che mi piace è che attraverso la musica si arrivi poi a vedere altri mondi a vedere altri punti di vista altre possibilità riflettere mi piacerebbe molto che chi ascolta la mia musica potesse trovare il modo di riflettere di così di avere degli spunti e di pensare prima di questa canzone non avevo mai pensato a anche solo delle immagini o anche solo delle proprie sensazioni delle proprie emozioni mi piacerebbe che arrivassi a questo punto nuovi progetti che partiranno partirà una tournée partirà anche succedendo un disco un EP un LP un vinile un CD noi siamo retroni allora al momento la cosa più imminente è il tour in Germania che parte la settimana prossima e staremo a Boltano quindi non in Germania però partiamo da da Manto e andiamo verso nord a Boltano poi staremo a Monaco due date a Berlino quindi sempre più su e poi torniamo a Weingarten quindi più nel sud poi vabbè a fine maggio torneremo chiuderemo il cerchio tornando anche a Mantova allo Zucca quindi sì al momento questo tour poi sicuramente usciranno alcune delle canzoni che ancora non hanno trovato un loro posto fisico diciamo quindi sono solo online troveranno un loro posto in una pubblicazione probabilmente CD magari EP perché non saranno molti brani però insomma quelli che non sono ancora stati editi da qualche parte troveranno penso una loro collocazione presto e e poi chi lo sa quello che la vita ci riserverà e è un consiglio che daresti a un giovane che voglia intraprendere la musica è un consiglio che daresti a un giovane tenendo presente che questa musica si ama anche vita fondamentalmente che risponde un po' a entrambe le domande di non arrendersi mai quindi di perseverare di continuare a provarci anche quando sembra che le cose non vadano come speri e non avresti ti saresti aspettato di più avresti voluto le cose diversamente non importa vai avanti provaci ancora prima o poi le soddisfazioni arrivano però bisogna saper attendere una canzone per loro che cos'è guarda una canzone per loro è una raccolta benefica una raccolta fondi sì una raccolta di beneficenza che organizzo tutti gli anni ad agosto con l'idea che ad agosto tutto si fermi e di solito tutti si dimenticano non ho delle situazioni si va in vacanza quindi chiudono gli uffici chiude tutto e basta il mondo si è fermato in realtà non è proprio così nel senso che ci sono situazioni che vanno avanti ci sono persone che continuano ad aver bisogno di aiuto e quindi ad agosto solitamente faccio questa raccolta mettendo tra virgoletti in vendita una mia canzone poi come al solito un pretesto con un'offerta minima di un euro ovviamente tante persone donano anche di più e solitamente destino i fondi a realtà che conosco quindi scelgo delle realtà solitamente qua vicino a me nel senso che sai le realtà che hanno bisogno sono tantissime quindi scegliere è sempre difficile per cui di solito cerco di entrare in contatto personalmente o sono realtà che conosco già oppure cerco di entrare in contatto personalmente quindi andando a conoscere quello che fanno e andando anche a sentire di che cosa hanno bisogno perché ci sono realtà che magari hanno già dei fondi perché sono sovventonate è una raccolta fondi organizzata proprio molto piccola insomma quindi la porto avanti io di fatto tra i miei contatti tra chi mi segue ma essendo come dire realtà vicine è più facile poi che anche le persone che donano siano più vicine a me e quindi insomma cercando di capire un po' anche i bisogni quindi cosa quale cifra bisognerebbe raggiungere perché sia significativa per loro mi rivolgo a realtà appunto che hanno che hanno bisogno di questo e basta quindi quest'anno devo ancora decidere a chi perché appunto abbiamo ancora un po' di tempo e poi insomma si porteremo avanti anche questa solitamente presento una cantone cioè metto in vendita una cantone inedita non sempre mia a volte sono state delle cover la cosa curiosa è che a volte restano anche un po' nell'ombra nel senso che fanno parte di quella raccolta fondi poi rimangono a chi come dire ha donato e ha avuto la cantone privatamente quindi un po' come una sorta di cosa speciale no e ogni tanto le uso in qualche concerto quindi le presento poi a qualche concerto però ce n'è qualcuna che paradossalmente chissà magari un domani usciranno come la raccolta una canzone per loro perché davvero sono alcune sono rimaste segrete quasi ciao a tutte e tutti grazie mille ascoltate la mia musica e spero che vi porti tante emozioni dal cuore studio 7 in collaborazione con sport e piceno game presenta l'intervista di pietro a a a a a a a